Salve a tutti amici, in questo video vediamo come completare il sacrario di Rutaf Ume su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Prima di tutto dobbiamo farlo aprire. Come fare? Interagiamo con il portale e partirà un raggio che arriverà ad un cristallo sommerso. Il cristallo non lo possiamo prendere direttamente, si trova qui proprio nella pozza d'acqua, ma dobbiamo usare una stalattite per collegarla al cristallo. Ecco qua, se una non è sufficiente, se ci arrivate male, mettetene anche un'altra. Fate come se fosse un puntaspilli, quindi una volta piazzata la stalattite e collegata, quindi spinta in avanti al cristallo, dovete solo con l'ultramano interagire sulla parte che viene in fuori della stalattite per prendere tutto quanto attaccato. Molto semplice. Quindi a questo punto andiamo a portare il cristallo al sacrario e finalmente il sacrario potrà aprirsi. Ecco fatto. A questo punto ci basta entrare e percorrere il percorso dritto, aprendo il baule e andando semplicemente alla fine del sacrario. Qua abbiamo un topazio e qui abbiamo completato il tutto. Un saluto!